eccoci buonasera a tutti eccoci qui questa sera lo diciamo anche per chi ogni tanto ci disturba facciamo la ripresa con due cellulari così se ci disturberanno la diretta abbiamo la differita sappiatelo tutti quindi se dopo un po non troverete questo video tranquilli dopo un pochino lo ripubblichiamo perché questa sera è una importantissima serata molto importante perché siamo arrivati allo stremo siamo arrivati allo stremo cioè ormai ormai ci sono talmente tante norme tutte quante strampanate chiunque riesce a fare una norma ci stanno togliendo proprio la vita abbiamo deciso abbiamo deciso tutti insieme ho ricevuto centinaia migliaia di vostre richieste di impugnare tutto quello che ormai ci stanno imponendo è impossibile è impossibile andare in un albergo è impossibile andare in un ristorante è impossibile fare qualsiasi cosa ormai qualsiasi cosa facciamo andiamo in un negozio siamo aggrediti da un vigilante una commessa è diventata una follia nel momento in cui ormai ci dicono ci dicono licenziati che ormai siamo a 0,0038 casi nella maggior parte delle regioni e ormai ormai sta scomparendo e il professor Zandrillo è stato accusato perché ha detto che è scomparso non è scomparso no però ormai è semi scomparso questo virus ci stanno aggredendo con delle norme che scientificamente ci dicono non servono giuridicamente sono un vilipendio dei nostri diritti dato che noi combattiamo in punta di diritto stasera parliamo di dei nostri diritti negati e di come riconquistarli allora vi faccio un esempio banale lo leggiamo insieme lo leggiamo insieme lo leggiamo insieme ecco qui l'articolo di oggi lo leggiamo insieme sentite bene sentite bene cosa è successo una torista proveniente da roma si stava dirigendo verso la spiaggia quando il parcheggiatore ecco il parcheggiatore l'ha fermata misurata la temperatura risultato 39,2 di febbre succede all'ito di sperlonga cittadina in provincia cittadina allora perdonatemi ma non possiamo non so possiamo subire le pazzie totali ma io dico primo ma è mai possibile che un parcheggiatore mi misuri la febbre cioè siamo arrivati a proprio a uno scompenso psichiatrico un parcheggiatore che ci misura la febbre perdonatemi ma poi ma vi pare mai possibile è tutto possibile che una persona che a 39,5 di febbre se ne va tranquillamente spiaggia sarà minimo svenuta in un letto sarà minimo svenuta in un letto e appare è tutto possibile non diciamo che è falso non diciamo che mai è assai improbabile se avete mai avuto 39,5 di febbre nella vostra vita come stavate sdraiati come se foste morti e questa con l'ombrellone spalla con la ciambella se ne andava in spiaggia e il parcheggiatore ha avuto il diritto un parcheggiatore ha avuto il diritto di di misurare la febbre di mandarla via siamo arrivati secondo un mio modestissimo parere strettamente giuridico non scientifico siamo arrivati all'eccesso a una catastrofe dei nostri diritti allora ma da dove nasce questo nasce da una serie di norme norme non leggi norme voi non lo sapete ma stasera abbiamo qui i documenti perché il bello del nostro colloquio il bello dei nostri discorsi che abbiamo i documenti non facciamo filosofia non prendiamo 3.000 euro ogni puntata per fare i virologi che che ci dicono almeno i mass media che prendono 3.000 euro ogni puntata per stare 7 minuti noi prendiamo una lira siamo poveri ma leggiamo e abbiamo i documenti eccoli guardate documenti ministero cioè non non facciamo nulla di ciò che non viene scritto allora mentre si parla delle leggi e non ci sono i ministeri fanno delle norme ormai delle circolari abbiamo visto addirittura il parcheggiatore si autonomina medico e ti misura la febbre immaginate che cosa può fare un gabinetto di un ministro o un dirigente di un ministero ecco quello che fanno ve lo leggiamo insieme allora però amici cari con tanti di voi anzi con migliaia di voi abbiamo deciso io ho rotto gli indugi ci organizzeremo nei prossimi giorni stiamo molto in contatto ho rotto gli indugi ci opporremo in tutte le sedi giudiziarie ci opporremo fino ad andare all'aia ma ci opporremo a tutto ciò che è illegittimo ciò che è legittimo ci mancherebbe altro ciò che scientificamente provato ci mancherebbe altro ma tutto ciò che è illegittimo ci opporremo in tutti i tribunali italiani ed internazionali su vostra richiesta in tutti i tribunali nazionali e internazionali tanti ci stanno dicendo ma come facciamo è impossibile più vivere è impossibile per andare in una palestra bisogna compilare tre moduli aspettate e bisogna autocertificare non non avere avuto nei tre mesi per cento un raffreddore ma scusatemi non parlo scientificamente ma giuridicamente saranno una follia ma sarà una follia i miei dati personali del mio raffreddore che devono entrare in un database di una palestra ma ragazzi ma siamo veramente al vilipendio di qualsiasi cosa e cosa scrivono nei ministeri guardate vi faccio vedere guardate guardate prima pagina guardate gli indirizzi guardate bene gli indirizzi guardate guardate quattro pagine indirizzi guardate è sempre uno scherzo guardate guardate quattro pagine indirizzi hanno scritto a tutto il mondo vi faccio un esempio presidente ai blub non so chi sia società italiana pediatri un'impresa società italiana resisti regione vedono con commercio internazionale per l'aviazione trannitalia carabinieri questa circolare è andata in tutto il mondo vi leggo due frasi poi questi giorni le studiamo tutte frase per frase articolo per articolo ecco qui guardate guardate all'articolo alla pagina 3 alla pagina 3 ve la faccio vedere solo un attimo ecco qui perché noi leggiamo ecco qui alla pagina 3 c'è scritto lo scopo è identificare e gestire 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 e gestire i contatti dei casi scusate non sto scherzando eh probabili 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 gestire casi probabili come cioè qualcuno deve dire che io probabilmente posso avere il coronavirus ma stiamo stiamo scherzando ma non è una lesione di qualsiasi di diritto ma non abbiamo finito guardate ancora peggio alla pagina 4 ancora peggio allora perdonatemi il mondo sanitario è diviso in operatori sanitari e operatori medici no capite la differenza che cosa fa l'infermiere un operatore sanitario cosa fa il portantino è un operatore sanitario cosa fa al medico è un operatore medico siamo d'accordo siamo d'accordo no allora se vi leggo l'articolo eh l'articolo questo lo impugneremo in qualsiasi sede gli operatori sanitari che significa significa infermieri portantini non i medici operatori sanitari quindi chiunque sa nella sanità sentite la frase io mi spaventa sto sudando per i brividi sulla base di valutazioni individuali del rischio sulla base di valutazioni individuali non analisi non tamponi no valutazioni possono ritenere che alcune persone a prescindere della durata del setting abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio abbiano avuto sulla base di valutazioni ma vi rendete conto siamo addirittura mi ricordo i film della guerra in cui c'era la spia del palazzo del quartiere che andava a raccontare a qualcuno c'è quello quello è un amico del nemico e lo arrestavano sulla base di operatori sanitari sulla base di valutazioni individuali individuo ecco questa è una circolare ministero della salute ma secondo voi secondo voi possiamo accettarla o va impugnata in tutti quanti i tribunali che ci saranno a disposizione ditemelo e faremo tutto quello che voi ci consigliate allora andiamo all'altro problema gravissimo gravissimo ci stanno scrivendo migliaia 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 di famiglie migliaia migliaia di mamme atterrite il nuovo anno scolastico è diventata una follia una paura hanno tutti paura avete perché avete letto dei pezzi sui giornali dei pezzi drammatici il bambino se dalla febbre può essere prelevato il sottratto alla famiglia cose cose paurosissime ma noi abbiamo qui i documenti eccoli qui li studiamo non vi preoccupate in settimana ogni giorno leggeremo una pagina ogni giorno ecco qua ministero ecco presidente del consiglio dei ministri allora attività didattiche attività didattiche del prossimo anno allora quindi sì mamme state tranquille perché questo documento queste decisioni se voi lo vorrete tutti insieme le impugneremo vedremo se i giudici italiani e i giudici delle nazioni europee affermeranno garantiranno che non sono i basilari diritti dei minori due 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 soli articoli poi ne parleremo in settimana tantissimo due soli articoli ecco qui allora allora in questo documento ci sono una valanga di pagine che dicono tutta europa hanno fatto noi stiamo seguendo quello che fa l'europa perché l'europa docet e l'europa chiudono le scuole dopodiché affermano pagina 3 ve la faccio vedere così facciamo vedere sempre che non scherziamo ecco qui pagina 3 c'è scritto c'è scritto c'è scritto le scuole hanno chiuso secondo i dati dell'unesco in 190 paesi 190 quindi l'italia è uno dei 190 paesi 32 di 190 32 di 190 quindi quant'è che percentuale è bassissima 32 concluderanno l'anno scolastico online quindi l'italia è uno di questi 32 paesi gli altri 160 hanno riaperto le scuole gli altri 160 ecco qua lo dicono loro eccolo guardate quindi l'italia è uno dei pochissimi paesi al mondo al mondo lo dicono a pagina 3 il ministero pagina 3 guardatela l'italia è uno dei pochissimi paesi al mondo che non ha riaperto le scuole e tutto questo è sulle spalle delle mamme le mamme stanno vivendo un momento pazzesco da tre mesi stanno facendo mamme mogli lavoratrici stanno facendo e stanno facendo le insegnanti di uno due tre figli perché perché l'insegnamento online è solo una bufala dice l'insegnamento online mamma fai fare questo tuo figlio e la mamma si sostituisce alla maestra ma senza un euro di più senza un euro di più le mamme sono le vittime sacrificali di questo sistema di questo momento nessuno ha mai parlato delle mamme nessuno ed ecco ed ecco specificato in italia dopodiché leggiamo l'ultima piccola parte di cui parleremo in questi giorni eccola qua la famosissima pagina 18 leggetela allora gli alunni dovranno cioè gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici quindi dalle 8 e 30 di mattina alle ore 13 e 30 la mascherina chirurgica dalle 8 e 30 alle 13 e 30 la mascherina chirurgica allora amici miei ci faremo fare centinaia di relazioni da tutti i medici del mondo andremo anche negli stadi relazioni di cosa significa far indossare a un bambino per sei ore una mascherina poi voglio vedere un giudice uno ne vorrò vedere che dica che questa è una è una norma legittima ecco tutto questo per dirvi che combatteremo con le armi della giustizia con le armi del diritto combatteremo per i diritti costituzionali sanciti perché la legge deve prevalere sulle prepotenze e questo lo faremo insieme e ne siamo onorati lo faremo insieme questa questi giorni questa è una settimana decisiva insieme insieme creeremo un grande fronte di giustizia non andiamo nelle piazze abbiamo fatto questa questa abbiamo preso questa decisione non andremo nelle piazze noi pensiamo che il diritto dei cittadini vada tutelata nelle aule di giustizia è qui e poi ne parleremo in questi giorni delle sentenze che sono uscite sono iniziate uscite le sentenze favorevoli ai cittadini è una grande abbiamo già ci hanno fissato un un'udienza al tar per settembre ne parleremo ecco questa settimana parleremo della giustizia che chiediamo chiediamo venga applicata a proposito di giustizia voglio ricordare a tutti il 15 giugno scade il termine per ricorrere contro le multe illegittime ne abbiamo vi abbiamo dato la disponibilità sul sito sul sito studio legale polacco abbiamo dato della la disponibilità del ricorso gratuito facsimile prendetelo scaricate in questi giorni già già oggi vi stiamo mandando chi ci ha mandato i verbali il modulo già compilato lo dovete ovviamente firmare voi chi ci ha mandato la procura lo sto dicendo una la procura era un facsimile perché la procura deve essere originale lo comprendete quindi vi stiamo restituendo il verbale facsimile compilato dovete solo esclusivamente firmarlo in originale e mandarlo per raccomandata al prefetto mi raccomando mi raccomando preparate tutti i ricorsi e spediteli avete se avete qualche ulteriore specificazione chiedetecela e come al solito siamo sempre a vostra disposizione gratuitamente e lo ricordo sempre gratuitamente perché in questo gravissimo momento di piccola credibilità dello stato gli avvocati sono a vostra disposizione per un diritto per un diritto che nasce con l'umanità con l'uomo un diritto ricordiamoci lo gius romano che ci ha insegnato noi vogliamo che il diritto continui anche in questo momento di crisi di gravissima crisi in italia più che altrove quindi ogni sera ore 19 continuiamo organizziamoci vi dirò anche come ci organizziamo ci dobbiamo organizzare anche materialmente per le firme di tutti questi ricorsi per per i contributi per tutto quello che dobbiamo organizzare siamo a disposizione dobbiamo essere uniti nei prossimi giorni vi racconteremo tutte le strade giudiziarie legittime democratiche che stiamo intraprendendo che dobbiamo intraprendere insieme a voi perché la giustizia è del popolo non è di una casta ricordiamoci a presto a domani mi raccomando condividete su tutti i canali appena finisce il video immediatamente salvatelo perché se qualcuno lo cancella lo potete riproporre in tutti i canali che esistono tra i social di tutte le specie non non fermiamoci di fronte all'oltraggio non fermiamoci di fronte a chi ci vuole oscurare perché noi siamo cittadini democratici a domani ciao